Non è necessario essere degli esperti in telecomunicazione per fare questo lavoro. Il livello del business è molto semplice. È necessario essere noi stessi, è necessario studiare quello che la società ci presenta, è necessario impegnarsi, è necessario acquisire delle conoscenze che tutti possono avere indipendentemente dal titolo di studio o dalle esperienze precedenti. Io personalmente non sono un esperto in telecomunicazione. La deregulation è un'opportunità grande che si presenta anche nel nostro territorio e tu puoi farne parte perché significa che servizi offerti in precedenza a livello di monopolio vengono gestiti adesso da chiunque, quindi società private e tu puoi avere la tua piccola attività in maniera completamente indipendente.